buongiorno e bentornati al video bollettino oggi ci troviamo sulla punta valfredda circa 3000 metri nel comune di bardonecchia da qui abbiamo un ampio sguardo sulle cozze nord e su tutto l'innevamento che caratterizza questa parte di albi come potete vedere è abbastanza scarso per il periodo vediamo se va meglio in altre parti del piemonte oggi ci troviamo in valformazza nei pressi del ghiacciaio dei camosci abbiamo notato che i pendi maggiormente esposti al sole presentano già neve trasformata sopra i 3000 metri soprattutto sui versanti in ombra è ancora presente neve a debole coesione con isolati lastroni soffici da vento il manto nevoso è oramai ben consolidato è stabile tuttavia lo strato superficiale è costituito da una sottile crosta ghiacciata che al mattino può essere particolarmente dura da scalfire portate sempre con voi i rampant e se necessario i ramponi per superare i tratti più ripidi e ghiacciati della vostra salita per il fine settimana sono attese condizioni di tempo stabile con cielo prevalentemente soleggiato con valore dello zero termico prossimo ai 2000 metri il grado di pericolo si mantiene uno debole su tutti i settori i luoghi pericolosi sono piuttosto rari e generalmente limitati ai pendi estremamente ripidi e con questo è tutto ci vediamo settimana prossima arrivederci